Lunedì 2 agosto 1907. Sono le 6 del mattino. Oggi il più giovane dei miei figli lascia la nostra casa. Dopo tre anni d'accademia entra come sottotenente nell'esercito di sua maestà. Speravo che la sua prima destinazione sarebbe stata in città o in una città vicina. Invece parte per una solitaria fortezza alla più lontana frontiera dell'impero. Come ti invidio. Ogni giorno sarai svegliato dalle famose trombe d'argento della fortezza bastiano. Figurati non me lo immagino neppure come sia fatta questa fortezza. So solo che è molto lontana. Comunque tra tutti noi sarai tu quello che avrà avuto l'avventura più bella. vedi quegli alberi laggiù. Quando li avrà raggiunti non c'è più. Io non mi volterò e tu non potrai più vedermi. No. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.